Assieme alla mimosa per le lavoratrici, Cantarelli potrebbe arrivare finalmente qualche certezza in più in merito al proprio futuro. Una delegazione delle mestranze dello storico Marchio Tessi Laretino sarà infatti ricevuta dal Ministero dello Sviluppo Economico nel giorno della festa della donna. Dopo lunghe settimane di silenzio, dunque rappresentanti dei lavoratori, sindacati, regione e commissario, l'avvocato Leonardo Romagnoli, sono stati convocati dal Mise a Roma il prossimo 8 marzo. Nello stesso giorno, sempre nella capitale, presenta anche una delegazione di lavoratori per un pacifico sit-in. Restano ancora incerti le sorti dell'azienda Aretina, non è stato infatti ancora reso noto l'esito del terzo bando per aggiudicarsi la Cantarelli. Ad aver presentato offerta erano state due cordate, quella Italo-Bulgara, Men's Fashion Group, rappresentata al 50% da Anton Giulio Pacenti e dai Bulgari di Richmart, e quella pratese BLS con Gian Pietro Salvadori ed alcuni soci tailandesi. Infine, il prossimo 14 marzo scadrà la proroga della cassa integrazione, comunque rinnovabile. Attualmente la Cantarelli conta 250 addetti, di cui circa la metà già in cassa integrazione. L'azienda di alta sartoria Aretina si trova in amministrazione straordinaria dopo che il 2 novembre 2015 era stato dichiarato lo stato di insolvenza.